Allora, due secondi, col tuo gioco di riciclire, poi c'è una caratteristica, la riciclire, la riciclire, la riciclire. Non potevo farvi sentire la musica per questione di copyright, adesso passiamo invece a Valentina Ferragni, parliamo un attimo di Chiara, questa è Valentina Ferragni però da René Caovilla, regolarmente invitata alla Fashion Week, Chiara manca, è stata invitata anche lei, però manca per tenere un low profile, quindi non è neanche andata alla fila sfilata dei Tots. È una ragazza serena perché il suo matrimonio va avanti, guardate che i Ferragni sono molto abili a fare distrazione di massa, lo dico con un tono positivo, ma non fatevi abbindolare dalla notizia fuori.